il pezzi da un'imperto, il pezzi di essere più che non è che ci sia mai in nostro gioco, e adesso potrebbe essere un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio. E quindi la nostra è la nostra è la parola. Ma è la parola di carità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.